Vediamo nel dettaglio quali sono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale. Ristorazione. Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, laddove è possibile privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni, giardini, terrazze, plateatici, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro. I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli. La consumazione a buffet non è consentita. Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina, in ogni caso favorire modalità di pagamento elettronica e possibilmente al tavolo. I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. Stabilimenti balneari. Bisogna che l'accompagnamento all'ombrellone sia ad opera dello steward di spiaggia che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare. Privileggiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione. Se possibile, organizzare percorsi separati per le entrate e per l'uscita. Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone. Tra le attrezzature di spiaggia, lettini, sedia, sdraio, deve essere garantita una distanza di almeno un metro e mezzo. Regolare e frequente pulizia, disinfestazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici. Le attrezzature, come ad esempio lettini, sedia sdraio, ombrelloni, vanno disinfettati ad ogni cambio di persona. Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia, per esempio racchettoni in acqua, ad esempio nuoto, surf, windsurf, kitesurf, possono essere regolarmente praticati. Diversamente per gli sport di squadra, come beach volley e beach soccer, sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti. Strutture alberghiere. Si suggerisce di affiggere dei cartelli informativi o di delimitare gli spazi. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate. Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina. L'utilizzo degli ascensori deve essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina. Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aereazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario garantire periodicamente l'ariazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di apertura verso l'esterno. Parrucchieri Le indicazioni si applicano al settore della cura della persona. Servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti. Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale. L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a un metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree. In particolare, per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione, che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. Sono inibiti dove presenti l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio. Commercio al dettaglio. In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola la merce. Assicurare la pulizia e la disinfestazione quotidiana delle aree comuni. Palestre. Redigere un programma delle attività al più possibile pianificato, esempio con prenotazione, e regolarmente gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento. Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno un metro, ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate e separate da apposite barriere. Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezze e macchine, anche delimitando le zone al fine di garantire la distanza di sicurezza, o almeno un metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno due metri durante l'attività. Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. Grazie per la visione!